salve ragazzi e ragazze ci rivediamo in questa nuova video lezione e ho pensato di dedicarla alla poesia quale momento migliore per rifugiarci in versi scritti da altri poeti o poetesse o quale momento migliore perché anche noi esprimiamo le nostre emozioni attraverso la poesia dovete sapere che fra qualche giorno il 21 marzo sarà proprio la giornata mondiale dedicata alla poesia è una giornata voluta dall'unesco e si celebra già dal 1999 quindi ho pensato di leggere con voi una poesia di un poeta contemporaneo un poeta turco nazim ikmet è una poesia che non ha bisogno di tante spiegazioni sapete alle volte ci perdiamo in parafrasi commento anche perché studiamo autori autrici ma più autori purtroppo i nostri libri sono pieni più di autori maschili che non femminili autori quindi dicevo che hanno scritto nel lontano 1800 1700 1600 quindi con un italiano davvero diverso da quello che parliamo noi questo poeta è un poeta delicatissimo è un poeta molto intimo e nello stesso tempo semplice perché esprime le sue emozioni le sue sensazioni così come le arrivano al cuore la poesia che voglio leggervi e sono contento sono contento d'essere venuto al mondo d'essere nato sul nostro pianeta amo la terra la messe la battaglia e ne afferro il linguaggio è vero accanto al sole è un balocco questo nostro mondo ma è grande sterminato voglio andarmene in giro a vedere e pesci e frutti e stelle che non conosco a sentire la risacca dei mari remoti è una poesia delicatissima molto spontanea dove gli unici termini difficili sono la messe che appunto il raccolto il balocco un termine che non utilizziamo più però i balocchi sono i giochi giocattoli dei bimbi e delle bimbe e la risacca e facciamo un po di geografia cose la risacca che ama la vita ama il mondo e ama andarsene in giro per vedere cose nuove allora questo è il momento nel quale in giro non possiamo andarci però è una buona occasione per andare in giro dentro noi stessi e dentro noi stesse quindi vi auguro davvero un viaggio di tipo differente in questi giorni vi abbraccio tutti e tutte a presto